Clemente Mimum, direttore del TG5, in una lettera inviata al messaggero, racconta l'ultimissima telefonata con Silvio Berlusconi poco prima che morisse. Silvio Berlusconi mi ha telefonato due giorni prima della sua morte. Lui con voce flebile. Come stai? Tua moglie? I tuoi ragazzi? È tutto a posto, hai bisogno di qualcosa. E io, sì, ho bisogno che ti riposi, ti rilassi e che ci si veda presso con te, in forze. Alla fine della telefonata ero cupo, consapevole che probabilmente non l'avrei più sentito. Ho immaginato che Berlusconi avesse cominciato a chiamare tutti i suoi amici per congedarsi. Per questo mi sono sentito crescere, una terribile angoscia e una grande tristezza.